Esattamente 43 anni fa, il 27 marzo 1975, usciva nelle sale cinematografiche italiane il primo episodio della saga di Fantozzi. Casualità, o no? Vuole che il 27 marzo 2018 sia anche la data della partita tra Inghilterra e Italia giocata nella cornice di Wembley, la stessa che il famosissimo ragioniere impersonificato da Paolo Villaggio era ansioso di seguire in televisione gustandosi una fritta tona di cipolle gigante accompagnata da una birra peroni ghiacciata, rutto libero e tifo indavolato nel secondo atto della serie. Il Mad Souls. Abbiamo approfittato della concomitanza tra la partita citata dal film e l'amichevole tra Inghilterra e Italia ricordando uno dei momenti più divertenti della saga ha spiegato il conte, Mascetti, artefice del tutto. Durante la partita dell'Italia proporremo cocktail ispirati ai personaggi del film accompagnati dall'immancabile Frittatona e dalla familiare Peroni. Grazie a tutti.